Taglio del nastro per lo stand dell'Agenzia Dogane e Monopoliche da sabato 16 ottobre presente lungo corso Vannucci a Perugia. L'apertura ufficiale ha visto la presenza del direttore territoriale Roberto Chiara, della Presidente della Regione dell'Umbria Donatella Desei e dell'assessore allo sport e al commercio del Comune di Perugia Clara Pastorelli. Lo stand che resterà aperto fino a domenica 24 ottobre ha lo scopo di illustrare la cittadinanza quali sono le attività che l'agenzia svolge. In mostra ci sono alcuni reperti contraffatti del mondo della moda, sequestrati al termine di controlli e operazioni compiute dai funzionali doganali, nonché una slot machine ed un videogame con relativa apparecchiatura elettronica in grado di accertare le macchine da gioco illegali. Nella preapertura di questo ultimo weekend, che ha registrato la presenza di quasi 800 visitatori, sono state molto apprezzate le attività condotte dai tecnici del laboratorio chimico di Livorno, che grazie all'ausilio di alcune attrezzature hanno mostrato come si effettuano i controlli di sicurezza nei giocattoli per bambini. Si fa una prova d'urto per vedere se il giocattolo si rompe, se forma una piccola parte. In questo caso il giocattolo ha prodotto delle piccole parti che noi proviamo in un cilindro apposito che simula la bocca di un bambino. Se entra completamente nel cilindro vuol dire che è una parte pericolosa e quindi il giocattolo non andrà importato, non andrà commercializzato. Altrimenti se la parte che è venuta, si è staccata magari, non entra completamente nel cilindro, il giocattolo è sicuro, non ha prodotto parti che possano essere di soffogamento per il bambino.